Filippa Lagerbac Filippa Lagerbac, altra accusa, avete rotto le pì, la svedese stavolta mostra i denti Filippa Lagerbac, riceve unaltra accusa, avete rotto le pì. La svedese mostra i denti. Filippa Lagerbac e Bossari, durante e dopo l'avventura al grande fartello VIP di Daniele, hanno acquisito una forte popolarità e hanno fatto incetta di fan che continuano a sostenerli, a regalargli attestati di stima e a fargli sentire del caloroso affetto. Ma non tutto è oro quel che luccica, recitava un detto. Infatti, cè anche una piccola parte di seguaci che da qualche tempo ha iniziato a bersagliare la coppia, rea, secondo loro, di sfruttare troppo la visibilità. . Filippa, che è sempre molto attiva e disponibile sui suoi indirizzi social , ha mostrato i denti, mettendoci la faccia. . Stavolta ha messo in soffitta, in parte, la sua consueta pacatezza, delidendo la critica e addirittura invitando l'utente a seguire lo show di che tempo che fa. . 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